Benvenuti a tutti alla finale di Champions, Liverpool-Real Madrid. Io e Delo proveremo a fare questa partita e vediamo come va finire. Allora, per stabilire, stavolta, visto che non abbiamo il bottone del sondaggio, stabilire chi tiene una squadra e chi tiene l'altra... Ci fichiamo, ah no! Facciamo un semplice bim-bum-bam. Scogli tu, Delo, secca, secca, vuoi tenere dispari i pari, cosa fai? Dispare. Dispare, vai. Secca, bim-bum-bam, mia. Dispare è sua, vediamo. Allora, dispare, io direi clop, clop tutta la vita, quindi io mi piglio il Liverpool. E quindi io che ho, Ancelotti? E tu c'è Carletto. C'è Carletto dove? C'è Carletto dove? Allora, mettiamo, segniamo. Quindi andiamo a prendere il Liverpool, ecco qua. E io... Qual è, eh? Siamo già... Club Fogo, io direi questo qui, anche dai valori, sì. Va bene, dopo le maglie e le cose sono quello che sono, dopo vediamoci qua. Direi di sì, ma... Sì. Sì. Va bene, facciamo la formazione. Cos'è? Di quanto? Supplementare... Supplementare... Sì, quindi impostazioni. La durata... Allora, durata facciamo 15 minuti, come abbiamo detto. Supplementare sì, calci di rigore sì. Giusto? Sì. Basta. Direi che qua, va bene, infortuni sì, il meteo casuali... Allora, ecco a voi le formazioni scelte. Alla fine un mago, metto anche Loretty, come ormai avrete capito, che sceglie un'unica punta base male da solo, con tre dietro a supporto e una difesa ben coperta. Mentre il Delo... Io mi schierò con il classico schema del Liverpool, con fido tutto su Salah e Manet, prendiamoci la Coppa e andiamo a calcare. Vuoi correre, ho capito. Corriam e poi ci vuoi a chiama. Scorribande, va bene. Vai, scorribande. Ok. Bene. Calcio all'inizio, via. Vai di Africa. Tensione impalbabile. Ti do una gomitata degli occhi su. E anche se sei più avanti mi sono appoggiato. Adesso sono in relax, poi vado in tensione. Saltiamo. E si parte. Inizia. Scusa, ma che... Ed è partita. Si posa. Si posa. Si posa. Ti conviene. Sono 15 minuti, signori. Ci da stare attenti. Eh, si studia, no? Eh, si eh. C'è un studio. D'accordo, olioso. Tensione impalbabile. Chik, sì. Di questo. È un studio. Un studio. È quel punto che sta a trefferciare. La posa. È un swell. È un ruolo. un po' di chanelino per fortuna Rani è del giardino, non fateci caso Scusa, ma dov'è il fallo? Ma dov'è? Ma non c'è niente, ma ragazzi, se mi becco quel qua è ingiustissimo È ingiustissimo A giro! A giro sì io Pallo che chiede a vendermi Che incredibile Pallo terribile Pio! 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 Che pio! Lui vai! Lui vai! Lui vai! Lui vai! Lui vai! Che fai l'ho! Lui vai! Pio! Un po' Cordo! Pio! 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 Montami! Pio! 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 ottimo ah che bella troppa e lo so cosa c'è? ma è fadibile sono del macellante attenzione a farlo terribile non si vede niente gli ha tirato un pallone addosso e mi ha visto il pallo incredibile incredibile dai cos'è? lob si lob oh grazie porto a grazie porto a grazie dai muoviti però ma che schifo fai no veramente lo schifo troppo bravissimo tocchettino così ma che bella chiude no è stata calma olimpica troppa troppa fino a poi la pagina è stata calma olimpica va capito che lavoro che lavoro che lavoro che lavoro impressionante niente ecco arriva lì cilotta in mezzo al campo inserire i palli pietosi ma non chiede così ma non chiede così ma dai la sarà deve spezzarsi fuori le gambine e basta e va giù nel corridore basta boh eh no chi è? ti stanno dove va? ma che lavoro? che schifo mi stanno ci stanno ci stanno ci stanno ci stanno ci stanno vengo 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 bella che duri so benzemmat fare qualcosa benzemmatto convidi qualcosa bella mi piace un legio millimetrico niente però ci sta che figa 1 9 dai però no ha fatto una stupidata no e va che incredibile sono preso per un millimetro TODY e va che buono è che buono è che buono è calmati rinvio questo è lunghissimo e va che quanti belli che besti è quella liga liga che credibile è tu per tu ma la palla è fuori la palla è fuori tardi sarà bene figli becca su sarà mamma è finito il primo tempo ti scelano le stelle l'occasione di ambo le parti è bisogno di consumazione vuoi una consumazione cosa abbiamo quello che vuoi abbiamo chinotti abbiamo codini fante acqua un succo abbiamo anche ciagallini fonsis succo 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 di melocano succo di qualsiasi roba sono un po' di un po' di rosso o biondo 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 e dopo coi denti eh dopo coi denti ma c'è nada vivo vivo vuoi da mangiare i terralino no no da mangiare no io invece prendo due terralini due terralini due terralini ehi 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 allora signori possesso 58 io il colpo è stato qui dentro bellissimo ecco arriva cameriere allora venga duro eh forse è meglio che la prendo normalmente ecco 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 allora le statistiche parlo chiaro il solito gioco di loredi con il 58 per cento di possesso a 42 però sterile con 2 tiri in porta di cui 1 nello specchio 4 tire e 2 nello specchio della porta loredi fuorigioco totali 6 fuorigiochi ma come? ah no falli 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 6 a 0 per me falli vedi che sono un grande me ne fatto male non ha altro fallo calci di angolo pochissimo 0 calcio di punizione di cui due clamorosi sbagliati per bagliare non ho parato non ho parato parlo guarda un po' di poco una parte e due niente tutto sommato equilibrato boh non sapevo non sticare perché boh qua c'è un episodio se non si finisse sui commentari sarà un episodio sì sì un bel rosso magari che becco io aspettiamo un episodio boh comunque quelle 3 o 4 occasioni il gol potrà venire perché davanti al posto ho detto sia io che te io vabbè 3 o 4 ma ci sono nemmeno 4 occasioni nitide da gol ovviamente non ho informato prima ma la partita viene giocata poco prima appunto della finale vera e propria e ovviamente perché non avrebbe senso per noi giocare dopo e niente così a festeggiare questa finale e vediamo come finisce con noi come finisce nella realtà qua tu mi era al rivolto degli schiatti bene bene siamo pronti ristorati per il secondo tempo sono faiiti ti tiro giù buono stile intanto si è beccato un fallo si è beccato i due tu per quello ma infatti devono buttarmi fuori e sono faiati per il secondo tempo tu non ho niente che fare dai niente che fare non direi delle cose ma è nesano ma no salvataggio l'ultimo respiro cos'è con l'interceptor lì? l'ho visto chiuso come una bestia addio questo lì mi sembra che è partito troppo forte ho parlato il mio no vedete come stanno le cose dove va? ottimo conquista benzemato benzemato non c'è niente è andato via benzemato è l'ultimo sto 10 un'ottimo scambio si cercano si trovano bellissimo povero buttalo no cinciscata troppo cinciscata azione bellissima poi vanificata reazione del Real dietro guardiamo come delle poche oh che bomba ma amici è una bomba incredibile ci va qualcuno ma che puttana si riparte bello scambio di prima se ne va in area di rigore le mette in mezzo ancora in mezzo e fallo no niente signore emozione non finire no non fa questo qua no no un bel Real ma cosa fai? è stato un tacco ottimo no ottimo oh oh ma scambio bellissima hai un tacco qua guardatelo qua riconquista fa un tacco bellissimo Madrich porca vacca questo qua si supera come si chiama questo portiere qua? Alejo Backer è bravo evidentemente si proviamo vai giro dai 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 ora no filastropia anche solo ardo che fu ma Alejo non c'era un po' c'era un po' biglietto davanti era un po' emozionato si parte regalo vieni oh quanto rischia cosa fa? è fallo è bravo vuole ma culo no eh no ammazzo ammazzo no il mio classico d'ammazzo numeri bellissimo no te ne devi andare ottimo ottimo è ottima azione l'emozione l'emozione pressato dal nostro clima comunque va bene no troppo corta ci sta è bella l'aria scambia mette in mezzo ottimo sono elaboratissimo che c'è dietro una delle pombe lo fai no non puoi parare quella roba qua ci ho caricato come un missile ci sembrava un missile terraria devo provare i medico che c'era un fossing che non riusciremo mai più a fare un fossing del genere si un tiro da fuori che veniva troppo bene fa la gole il portiere di Alisson non è mica grande è un becker che boia ma non ne prendi uno beh ovvio per un nano dai non puoi prenderlo calmi bello stadio l'occhio socca bestia c'è un cambio non lo vocevo chiudere c'è un cambio cosa c'è cosa c'è c'è un cambio cosa c'è c'è non è qua c'è un cambio non è riuscito a alzarsi lo stesso c'è un cambio allora mi hai fatto cambio scaccia e fallo dai lo fallo io lo faccio io schermo di giochi c'è un cambio per il Dio cosa succederà allora lo faccio più o meno vengo 10 anche io cambio centrare il Marcello mi devo coprire con queste munizioni poi metti che si fai supplementare cosa molto possibile si e quante occasioni però mamma mia quante occasioni buttate non so per fatto perribile fatta è fatta ok incredibile va fatto via ci riparte minuto 64 un po' di cambi Alabama Marcello e tu con chi con chi 10 sono io questa qua via rinvio non la prenderei mai inghe quasi calibratissima però Marcello dove stanno? va che fallo ma bro è montato sembrava che mi muovi bro non lo so sembrava panna montata c'era la fusta che roba dove niente una mano sulla schiena stavo cappottando non so io un sasso ecco no vabbè questo qua paratutto datevi 9 di voto fate prima becchia eh sì becchia sì cos'è un coso un fornaio oh che entratina amici salta più in piedi o ma forse si va fordato il tuo gioco no vuol dire che non me ne sono reso conto sennò era da far qualcosa è bella troppo è bella è bella cazzo dove vai no ho perso il tempo bene ho perso il tempo ho perso che si ranger grande difensore che palla marcello marcello salasetta dai che bella dai che bella fai qualcosa nel mondo dai che schifo fallo che schifo va troppo ottimo e va che c***o è però basta e va che c***o è mamma mia via che t'ha parla di me e va che cos'è e va che terribile cos'è dove è finita calmi dai raga arrivate o no pazzo è pazzo ma no mamma oh mamma mamma trenti no interribile trenti basta trenti sì che dà eh sì hai ragione spacchetti un piede di un palo non riuscire a prima trento ceresimo cambia risultato vive a pollo in vantaggio balanza facciamo vedere a sto gol è stato troppo violento lì doveva andare a chiudo ma vabbè che lì c***o va a fare la fine sono caduto in due quando si è volato figlio che è terribile l'esterno un lob un tocchetto sotto mannazzi vabbè salta grazie mannazzi spregiudicato non ci sono possibilità se non mettere tre punte vedete ancora e niente facciamo così dai tanto andata per andata dobbiamo cercare di recuperare non è facile no no questa è brutta questa è molto brutta sicuro no però va bene qua è andata bene che è andata bene che ricordo è andata bene che si è persa la registrazione scusate un attimo di interruzione fa proprio un attimo sono momenti caldi questi qua si molto caldi che credo via si riparte non metti caldi no no vabbè ok è truccato amici è truccato in bocca si ciao in bocca inizia un portiere che para qualsiasi cosa tutti hanno visto ragazzi in bocca voi tutti avete visto il portiere para tutto in bocca si si in bocca no è impossibile ma che bagliatutto cazzo di prima no ragazzi è impossibile ho capito è insuperabile guardatelo è insuperabile il portiere ma che bocca ho tirato dall'altra parte direttore dai di qua e tiro di là questo qua è stuto sono due metri dal portiere signori è impossibile questo qua para qualsiasi cosa non ce la posso fare ragazzi ma è incredibile cosa para vabbè questo è bravo che io su dai veloce contropiede fate contropiede fate si ferma niente e va che mi mi fa quello mazzo lo mazzo e devo farlo ragazzi mi è costretto non c'è nulla non c'è nulla vieni ma che bello fallo dove va dove vai eh giusto ma è quel che parte anche te la va mamma che lavoro ragazzi è finito tira il volo no oh l'ho detto che l'ho toccano dove vai non c'è niente perché no non è big non l'ho beccata una non l'ho beccata no incredibile giustissia cavalcani dieci indietrezza indietrezza a cola chiudi lascio dieci ma che fai dieci è dieci è undici vacca paviti qua raga è finita è finita è finita è finita esaltazione tira lì che è finita arrivano i colossali come tira lì che scherco sta ammerinando no è finita è finita muo cuscusi salati cuscusi cuscusi statistiche finali con sesso mio tiri praticamente uguali allora cosa dici equilibrata equilibrata molto equilibrata equilibrata alla fine ha vinto ha vinto un'invenzione di momo il cuscusi saluti a tutti salutiamo ci vediamo la prossima iscrivetevi ricordate che per arrivare anche solo a 500 iscritti per avere il bottone community anche se solo chiunque di voi scrive un amico siete in 325 avete la possibilità di aiutarci da grande quindi confidiamo in voi adesso pagami la cena poi ciao 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 ciao